La vicenda della Seves diventa sempre più di interesse nazionale. L'architetto e senatore Renzo Piano ha infatti scritto una lettera di solidarietà ai lavoratori dell'azienda, elogiando in particolare la qualità unica dei mattoni in vetro cemento prodotti nello stabilimento fiorentino e da lui utilizzati per costruire Mesonermessa Tokyo. Non solo, durante un incontro con i lavoratori nella sede fiorentina della CGL, la senatrice del PD Rosa Maria di Giorgi ha annunciato di aver depositato un'interrogazione sul tavolo del ministro dell'industria Flavio Zanonato per chiedere a governo e Parlamento di prendere posizione sul futuro della Seves. Noi non possiamo consentire che produzioni e produzioni di eccellenza si allontanino dal nostro territorio. Questo dramma della delocalizzazione bisogna che venga fermato. Una possibilità che si fa concreta visto l'arrivo di un nuovo potenziale acquirente che sembra intenzionato a mantenere parte della produzione della Seves proprio a Firenze salvando così il lavoro dei 97 operai. Stiamo chiedendo alle banche di valutare attentamente anche l'altra offerta perché ovviamente è un'offerta che è industrialmente più credibile dalla possibilità di salvare un prodotto made in Italy e dall'altra ovviamente salvaguarderebbe anche l'occupazione per questi lavoratori che passano da una crisi all'altra ormai da tantissimo tempo. Il tempo però stringe. Il 9 giugno prossimo scadrà infatti la cassa integrazione per i dipendenti e lo stabilimento di Firenze chiuderà i battenti.